Roma incontra protagonisti e fatti della grande attualità un programma ideato e condotto da Enrico Cisnetto Buonasera, buonasera ben trovati qui è tutto maledettamente fermo bloccato il governo che fatica a darsi un profilo che vada al di là del minor tasso di ansia collettiva che Gentiloni genera rispetto a Renzi, che è già qualcosa ma è un po' troppo poco addormentato il Parlamento che neppure prova a quattro mesi di distanza dalla disfatta dell'Italico ma a costruire uno straccio di legge elettorale paralizzata la politica che attende di sapere se il PD sarà ancora nelle mani di Renzi e da questo sembra far discendere qualunque cosa parentesi, se l'affluenza di un partito come il PD a elezioni del proprio segretario è del 58% mi viene male a pensare quanto sarà l'affluenza degli elettori alle elezioni stagnante l'economia che si gioca con quella greca all'ultima posizione della classifica europea tutti gli indicatori ci dicono che nel 2017 la crescita del PIL dovrebbe superare seppur di un solo decimale il pur misero 1% però per poi rallentare anche per effetto di cambiamenti internazionali dal neoprotezionismo di Trump alla fine della politica monetaria della BCE che certo non saranno dei tonici per noi e se ritorneremo in piena stagnazione sarà l'inevitabile conseguenza di una politica economica arrangiata priva di respiro strategico un surfeggiare anche un po' dilettantesco sulla congiuntura che te la fa subire proprio mentre ci vorrebbe la capacità di aggredirla e di governarla in questo quadro occorrerebbe da parte del governo e in generale della politica ben altro approccio dell'attuale attendismo guardate che dico queste cose con malincuore perché fin dall'inizio ho salutato come utile il governo Gentiloni tuttavia di fronte all'impasse non possiamo tacere se questo esecutivo è nato per evitare che il Paese rimanesse vittima del risultato del referendum e della sconsiderata voglia di rivincita di chi l'aveva perso ora non può farsi inghiottire nelle sabbie mobili in quell'impasto micidiale di inerzie, lentezze, indecisionismi, vacuità programmatiche e fragilità politiche che non solo impedisce di governare il Paese come la dimensione e la profondità dei problemi richiederebbe ma rappresenta il miglior terreno di cultura per far crescere elettoralmente l'albero storto del populismo ma c'è qualcuno che si oppone a tutto questo forse sì, ecco perché i primi ospiti di oggi sono Stefano Parisi e Maurizio Sacconi Allora, io da bravo presentatore, come diceva quello là sabato sono stato all'hotel Ergifia a Roma alla convention di energie per l'Italia creata da Parisi il quale non si sa bene colpito da quale malattia ha deciso di smettere di fare l'immanager, l'imprenditore e di provare a fare qualcosa di nuovo in politica qui Sacconi c'è perché ha aderito a questa nuova iniziativa adesso gli chiederemo in che forme e perché posso andare subito diretto? vai allora io sabato mi è sembrato di vedere uno molto bravo che eri tu con un vestito sbagliato ma non perché come dire il vestito era alla kermess perché tu hai detto in quell'occasione tra le tante cose interessanti che bisogna ridefinire il pensiero occidentale che c'è bisogno prima di tutto di pensiero e io concordo ma la convention è stata molto marketing musica, presentatori, bandierine insomma mi sembrava che ci fosse un po' di distanza tra la voglia del pensiero e l'acclamazione di un nuovo leader sbaglio io? no no hai ragione c'è un percorso noi abbiamo fatto un grande lavoro il 16 e 17 settembre a Milano dove abbiamo fatto due giorni programmatici molto intensi Morizio c'era dove hanno parlato molte persone dove abbiamo posto le basi di un lavoro programmatico ah lì che c'era pensiero non mi ha invitato poi invece quando c'era il marketing non mi ha capito adesso non mi ha invitato anche lì non sei venuto perché era a Milano allora detto questo e da lì abbiamo iniziato a fare un grande lavoro sul programma però siccome eravamo scomparsi cioè dicevano che non c'eravamo più che io ero stato licenziato che da Berlusconi naturalmente ah sì allora abbiamo fatto un momento anche un po' mediatico e anche un po' di identità quindi sì certo è stato soprattutto un momento mediatico un momento anche però di riconoscimento di un popolo che in questo momento è stato molto vicino a noi abbiamo fatto un grande guarda la soddisfazione di questi mesi è che noi abbiamo fatto un lavoro cancellati dai media e l'abbiamo fatto in mezzo alla gente in giro per l'Italia facendo tanti di queste conferenze programmatiche 35 ne abbiamo fatte e l'altro giorno era bloccata l'Aurelia cioè era strapieno di gente che era venuta da tutta Italia ma tu che sei esperto non è che ti è sembrato un po' berlusconiana come convention? beh se vogliamo fare riferimento al Berlusconi dei tempi migliori sì nel senso che innanzitutto c'era una platea popolare a me è piaciuta molto di più la manifestazione di Roma che non il convegno progettuale di Milano organizzato da Stefano Parisi perché in quella di Roma io ho avvertito davvero una calda presenza di popolo frutto del tour che lui ha fatto in tutte le province italiane o quasi e allo stesso tempo i contenuti nel corso di questo tempo sono stati elaborati perché anche usando la rete usandola intelligentemente non per fingere chissà quali platee organizzate ma attraverso una tempesta di idee che la rete favorisce sono state elaborate una serie di proposte descritte in un manifesto consegnato a tutti i partecipanti oltre che nell'intervento di Stefano senti ma tu hai aderito nel senso che sei vicino a Stefano perché siete amici da sempre hai aderito nel senso che ti sei virgolette iscritto non so se c'è già una tessera di energie per l'Italia no però se qualcuno vuole donare dei soldi può farlo va beh questa cosa sarà questo perché ci siamo volevo dire sempre sarà questo quindi vuol dire che hai lasciato quello che dove stavi? adesso ti avevo perso di vista da un po' di tempo stavo all'opposizione io mi sono dimesso da capogruppo di area popolare in occasione della rottura del patto per le riforme provocata da Renzi quando volle imporre il presidente Mattarella senza negoziarlo con le forze politiche che quelle riforme sostenevano la condivisione del presidente della repubblica sarebbe stata la conseguenza naturale della maggioranza per le riforme invece non ci fu io credo che lì Renzi abbia messo la prima pietra della sconfitta referendaria io mi divisi dal capogruppo e cominciai un percorso critico nei confronti della sua esperienza che si completò poi attraverso la mia contrarietà ad alcuni provvedimenti in modo particolare io non ho condiviso il catalogo dedicato alla sovversione antropologica adesso tanto per capirci al senato tu dove sei? in un gruppo misto? sono provvisoriamente con dissenso ripetuto parcheggiato nel gruppo di area popolare ma voto in dissenso con piede e mezzo fuori voto in dissenso al gruppo non ho votato la fiducia del governo Gentiloni non ho votato tutte le ultime mi pare 20 fiducia a proposito per tutti sei fatto anche un gruppettino parlamentare nel frattempo no no io ho fatto un'iniziativa di riforma costituzionale per introdurre la fiducia costruttiva cioè per stabilizzare il sistema proporzionale è necessario avere finalmente una cosa tedesca esatto e una 25 parlamentari hanno presentato questo disegno di legge alla Camera hanno apprezzato questa cosa e molti di loro erano l'altro giorno allergife no non c'è ancora lo sapete tutti e due che l'obiezione più probabile è non dico la parola perché è una parolaccia virgola un altro partitino sì tu dici non sarà un partitino, sarà un partitone no no ma non perché perché io sono più figlio degli altri ma perché penso che che il modello tutte le cose che abbiamo visto dal dal 2013 poi sono state tutte cose alcune anche io che ho anche condiviso ma tutte di palazzo nessuna di queste si è misurata poi con un momento elettorale pensi a passare per esempio no no parlo soprattutto delle diaspora che ci sono state all'interno del centro-destra i pezzettini staccati eh sì sono creati delle cose ma che sono figlie di Forza Italia che hanno generato queste cose qua e sì anche Corrado io penso che Corrado sia partito diciamo così un po' troppo presto e poi abbia cercato di fare un soggetto che non era né centro-sinistra né centro-destra dichiaratamente noi invece siamo voglio costruire una quarta casa nel centro-destra ma con questa idea cioè io sono convinto che l'esperienza nata nel 94 oggi sta giungendo al termine non per l'età di Silvio Berlusconi io avrei detto che è già giunto al termine no non è giunto al termine perché probabilmente prenderà molti voti anche alle prossime elezioni e non è per l'età di Silvio Berlusconi perché quei voti sono tutti 100% suoi credo che però una forza politica moderna debba avere la capacità di rigenerarsi ha perso la metà dei voti in questi anni perché non ha avuto la capacità di rigenerarsi e credo che questa non sia una responsabilità sua ma sia una responsabilità di chi gli è stato intorno e io credo che invece oggi noi costruiamo un soggetto nuovo una nuova comunità politica che però questa volta deve essere basata su dinamiche democratiche sulla contembedibilità e la crescita di persone di qualità mandare in Parlamento persone che sanno di cosa si tratta non tutti i gruppi parlamentari del centro-destra erano così Maurizio è una persona di grande esperienza e si è misurato più volte nella vita con le preferenze io credo che le nomine in Parlamento abbiano hanno messo gente in Parlamento che è inadeguata non parliamo poi del 5 Stelle che la gente è totalmente inadeguata quindi siete per il ripristino delle preferenze? noi come Energie Popolare no Energie per l'Italia ho fatto una gaffe terribile Energie per l'Italia questa cosa si può cancellare Energie per l'Italia Energie per l'Italia non avremo i capitalista bloccati nel senso che anche se ci fossero metteremo in moto dei meccanismi per cui i capitalista bloccati si dimetteranno e faranno passare le persone e vogliamo candidare persone che hanno una loro esperienza una loro posizionalità che hanno fatto anche politica da quando sono nati ma che si sono già misurati con l'amministrazione e con il governo altrimenti rischiamo di... il tema vero oggi è il degrado e la dignità della politica io credo che il paese si salva se la politica torna a essere un luogo di dignità e di qualità non di elite di dignità e di qualità senti Maurizio però il tema gira intorno secondo me anche perché c'è stata un'affermazione netta di sentirsi parte del centro-destra la quarta gamma chiamala come vuoi gira intorno alla questione di Berlusconi il Vespa ha scritto commentando l'iniziativa che Energie per l'Italia servirebbe a Berlusconi se il Cavaliere ne fosse cosciente però il Cavaliere ha fatto un'intervista l'ultima al mattino di Napoli in cui dice Parisi ha scelto una strada diversa non vedo l'utilità di ulteriori frammentazioni insomma lo ha mandato a stendere e a questo punto come dire come la mettiamo? quello che apprezzo di Stefano è anche il coraggio dell'azzardo parte dalla convinzione che c'è uno spazio politico questo spazio politico consiste soprattutto nella rappresentanza di coloro che ancora credono nella crescita per una serie di ragioni perfino Forza Italia è parsa rattrappirsi verso posizioni radicali qualche volta perfino troppo sociali e lasciando scoperto lo spazio teso appunto a rappresentare coloro che aspirano a crescere che vogliono innanzitutto sviluppo che pensano che poi lo sviluppo generi ricchezza e che questa ricchezza debba essere equamente distribuita attraverso lavoro e attraverso redditi ma che innanzitutto ritengono che l'Italia da tempo sia un paese bloccato nelle sue capacità di ripresa di crescita di produzione di ricchezza e di occupazione questo è lo spazio che Stefano cerca di coprire riprendendo quindi una cultura liberale e popolare perché il nostro capitalismo è sempre stato fortunatamente popolare dando una dichiarandosi lo ha fatto molto bene l'altro giorno come il partito nemico dell'invidia non è poca cosa in questa stagione in questa stagione l'invidia sembra essere un sentimento molto diffuso e anche la politica tende a rappresentare l'invidia a dare rappresentanza all'invidia beh lui invece vuole dare rappresentanza alla vitalità l'invidia è la benzina del populismo in questo momento quindi secondo me lui ha fatto molto bene a fare quel discorso però tornando alla politica io se avessi dovuto tirar fuori da quello che hai detto sabato che immagino sia un po' la sintesi di tutto il lavoro che avete fatto qualche cosa che vi possa immaginare non dico di stare insieme ma nemmeno seduti allo stesso tavolo con Salvini e Lameloni non lo trovo e quindi diventa un po' difficile immaginare che il centro già non lo faccio fatica a trovarlo con Berlusconi per fortuna per fortuna nel senso che aumenta il mio giudizio migliora il mio giudizio su Berlusconi no non è positivo lo migliora poi da dove parte lasciamo ah tra Berlusconi e Salvini no dico tra Berlusconi e Salvini mi sembra che ci sia poco di poca comunanza tra te e Salvini e Lameloni proprio zero e quindi come facciamo? non so io penso che il tema è questo qui ridare io sono allora io sono per il sistema proporzionale sono sempre stato per il sistema proporzionale perché penso che le coalizioni abbiano allontanato le persone dalla politica perché quando tu voti una coalizione sei costretto a votare soprattutto di solito voti contro l'altra coalizione non tanto a favore della tua perché dentro ci sono le realtà talmente fra di loro etereogenee che io credo che il sistema maggioritario abbia desertificato il pensiero politico in Italia perché essere costretti a fare compromessi a tutti i costi hai tolto l'identità dei diversi popoli che ci sono nel nostro paese e quindi io prima ancora che pensare a chi ci alleremo io sto cercando di ricostruire un'identità appunto come diceva Maurizio io sono perché le persone vogliano diventare ricche non sono contro la ricchezza non sono penso che invece più persone sono ricche e più avremo le risorse per stare vicino alle persone che non possono che non ce la fanno per aiutarle a uscire dalla loro situazione di povertà è uno schema politico opposto a quello della sinistra però il centro-destra ha perso i suoi connotati in questi anni dov'è quella cultura che invece nel 94 era sprigionava da quelle idee e da quelle sale è tutto morto perché anche il centro-destra è diventato un movimento politico della redistribuzione e non della creazione di ricchezza in tutte le politiche che sono state fatte allora credo che da questo punto di vista in più centro-destra e centro-sinistra ci miotano Grillo no e poi ti dico una cosa molto importante che quando Berlusconi governava con Bossi Berlusconi aveva il 30% era un leader moderato di una coalizione che al suo interno aveva anche posizioni più radicali ma erano assolutamente prevalenti le idee specie all'inizio più liberali sì allora si chiamano moderate oggi è un termine che io non uso più perché la gente è troppo arrabbiata per sentire cose moderate però io credo che sia questo cioè io penso che la nostra cultura in questo paese sia egemone il tema è soltanto di ritrovare la capacità di rappresentanza poi una volta che tu sei forte e hai una idea e forti tratti molto meglio le coalizioni cioè io ricordo nella prima repubblica si governava democristiani e socialisti ma governavano due entità e identità molto forti grazie a te anche repubblicani e liberali ci mancherebbe altro e anche socialdemocratici vabbè quelli possiamo anche dimenticarci sono circondato da liberali quindi sono tutti liberali ma eravate molto di più io ero repubblicano e c'era una certa differenza io sono circondato da liberali è vero Mario quanti c'è senti però parliamoci chiaro Maurizio i dati per quanto possano sbagliare e hanno sbagliato nel passato i sondaggi ci dicono che i 5 stelle sono nettamente avanti se fossero il primo partito anche senza raggiungere le quote maggioritarie ammesso che rimangano nella legge elettorale il capo dello Stato sarebbe costretto a dare loro quantomeno il primo giro di valse per verificare se ci sono le condizioni di un governo e a mio giudizio è molto probabile che Salvini e Lameloni gli offrano i loro voti e che Grillo li accetti e quindi la mia idea della prossima legislatura è quella roba lì contro tutti gli altri allora forse il ragionamento non è più il centro-destra e il centro-sinistra ma qualcosa di diverso non pensi? Io credo che però come diceva Stefano servano innanzitutto le identità politiche dobbiamo offrire al corpo elettorale identità precise nelle quali più persone possano riconoscersi e la stessa caduta della partecipazione al voto nasce dalla fine delle identità dal loro confondersi nelle grandi coalizioni nelle grandi liste e da una sorta di tatticismo esasperato che è prevalso nella vita pubblica oggi abbiamo bisogno invece di riscoprire ciascuno nel proprio ambito i principi di appartenenza io sono dichiarato conservatore quindi credo che si debba risvegliare si debbano risvegliare i principi sui quali questa nazione è nata laicamente riconoscendoli c'è una verità rivelata dall'esperienza umana quindi molto terrena ma che ci fa per esempio identificare l'importanza della vita dal concepimento alla morte naturale o l'importanza della famiglia che nel nostro ordine che nella nostra esperienza è stata anche il motore dello sviluppo economico non dimentichiamo le caratteristiche dicevo prima non solo di capitesimo popolare ma specificamente familiare allora da questi principi anche derivano identità forti pensieri forti che sono poi in grado di mediare di compromettersi il compromesso si realizza più agevolmente fra identità forti quando invece le identità sono deboli i compromessi sono fragili sono tattici sono contingenti sono piccoli soprattutto rispetto ai bisogni di una nazione alzare il livello del confronto è il compito che credo Energie per l'Italia abbia essere un enzima che accelera ovunque la riscoperta dei principi di riferimento delle idee della progettualità in un tempo come questo che è straordinario la cosa che mi è parsa più forte di quelle che hai detto tra le diverse è che ci vuole l'abolizione dello statuto dei lavoratori avendo tu trascorso un certo periodo della tua vita all'ufficio studi della CGL all'inizio della tua carriera è forte come affermazione anche 45 anni sono tanti sì sì certo per fare noi abbiamo fatto un elenco di 10 punti che abbiamo distribuito ai giornalisti che non sono stati pubblicati che se ne sono fregati dirlo pure tanto qua noi dei giornalisti parliamo malissimo in questo posto no ma che c'è io non parlo male perché probabilmente le cose politiche erano le più importanti però credo che fossero tutti punti abbastanza forti sì penso che vada definitivamente abolito lo statuto dei lavoratori per introdurre lo statuto dei lavori che è quello che propose 15 anni fa Marco Biaggi di cui Maurizio Sacconi si è fatto paladino fino a presentare pochi giorni fa credo un disegno di legge in Parlamento il tema di fondo è questo qua lo statuto dei lavoratori difende chi lavora gli occupati lo statuto dei lavori dalle garanzie minime a tutto il mondo del lavoro e poi si devono sviluppare i rapporti di lavoro sani si devono risiluppare in azienda e credo che questo sia una grande rivoluzione ed è molto importante credo che questa sia una delle basi di un cambiamento culturale che noi dobbiamo fare io non evoco il cambiamento culturale penso che la politica debba accelerare i cambiamenti culturali mentre invece da molti anni la politica va dietro ai sondaggi e quindi ha perso la capacità di essere appunto l'enzima ed è soltanto invece un follower che cerca di fare meno errori possibili per avere più consenso possibile noi invece stiamo dicendo delle cose che credo che siano giuste noi dobbiamo cambiare la logica dello Stato oggi lo Stato il tema non è la burocrazia il tema oggi è che è uno Stato che parte dal concetto soprattutto di sfiducia nei confronti degli italiani di sospetto nei confronti degli italiani e qui tutto il lavoro normativo regolamentare ma anche l'attitudine dei singoli funzionari pubblici a qualsiasi livello è un atteggiamento di sospetto di sfiducia abbiamo appiantato quello fiscale mi pare soprattutto quello fiscale soprattutto quello fiscale tutti i meccanismi che oggi sono dietro al sistema fiscale oggi noi abbiamo detto una cosa molto chiara io penso che non è vero che se tutti pagassero le tasse pagherebbero meno tasse se le tasse fossero più basse il sistema di riscossione tributario fosse più intelligente e più consapevole più che altro più cosciente delle informazioni delle cose che noi facciamo avremo molta meno evasione noi queste cose le diciamo da 30 anni che si dice che se tutti pagassero le tasse si pagherebbero di meno e che lo Stato cerca di sconfiggere l'evasione finché la sconfigge andando a prendere i soldi laddove ci sono perché addirittura adesso li abbiamo negli MBO dei dipendenti del Ministero dell'Economia non dell'Agenzia delle Entrate i dipendenti del Ministero dell'Economia hanno un premio sul gettito da evasione guardate che è una cosa incredibile cioè quindi cosa succede? vanno a fare visita nelle aziende e finché non trovano qualcosa non se ne vanno spesso questo è anche è anche fonte di corruzione io conosco il sistema svizzero perché ho avuto degli azionisti svizzeri per tanti anni quando ero amministratore creato di Fastweb in Svizzera in Swisscom c'è un ufficio dell'Agenzia delle Entrate che assiste l'azienda in qualunque decisione prenda e quindi corrobora all'origine all'origine prima che faccia un atto ma provate a fare voi un interpello all'Agenzia delle Entrate per sapere come la vostra azienda si deve comportare su un qualsiasi quesito non risponderanno mai e comunque quella risposta non ti esime e non ti evita le sanzioni che dovessero arrivare da eventuali comportamenti che la Commissione Tributaria dovesse decidere essere contro la legge e quindi siamo nelle mani di gente arrogante ignorante che non ci sa non aiuta l'economia ma anzi cerca di soffocarla abbiamo finito il tempo Maurizio una delle cose che ha detto Parisi sabato è stata basta con la narrazione qual è la narrazione che è più più falsa più più fuorviante che secondo me secondo te circola nel paese oggi ma io penso una una soprattutto una narrazione che non dà speranza quella che abbiamo sentito propagare a piene mani una narrazione deprimente un racconto deprimente una descrizione di questa nazione molto peggiore di quella di quello che è perché io credo che questa nazione abbia risorse straordinarie e le abbia dimostrate nei momenti nei quali anche la rappresentanza è stata migliore dobbiamo al contrario di quella narrazione liberare la nazione la società è migliore dello Stato liberiamo liberiamo la nazione e credo che essa potrà costruire ancora una nuova stagione di sviluppo mi dici i prossimi passi in 30 secondi beh i prossimi sono quelli di avviare questa costituente per l'Italia cioè di raccogliere tutti i movimenti e le associazioni che vogliono partecipare a questa costituente l'8 ottobre vogliamo che ci sia questo voto popolare per la costituente io non voglio fare il leader perché sono salito su un palco ma voglio fare il leader se il nostro popolo mi riconosce come tale quindi ho invitato e già Raffaele Fito ha accettato questo percorso ma io mi auguro che nel nostro settore però Stefano Folli ha detto non imbarcare e ti ha consigliato di non imbarcare troppa roba politica già esistente tu cosa ne pensi? infatti abbiamo detto delle cose molto precise abbiamo detto anche ai nostri amici di NCD che ora alternativa popolare che crediamo che questa questo nuovo comunità politica ha delle idee molto chiare su quelle che sono state il governo Renzi e quindi non possiamo accogliere chiunque noi dobbiamo accogliere chi ha un suo percorso molto chiaro nei confronti del futuro del paese noi dobbiamo capovolgere le politiche economiche fatte da Renzi e quindi è molto complicato poter stare tutti insieme il problema ma io più che ai partiti noi ci rivolgiamo molto alle associazioni alle realtà rappresentative vedi ho fatto un appello molto forte ai corpi intermedi al mondo delle imprese del commercio degli artigiani che oggi rischiamo moltissimo noi rischiamo a ottobre se si votasse anticipatamente di avere una manovra di 40 miliardi da fare con un governo di Maio o peggio ancora da Vigo e allora se gli imprenditori beh è la verità e allora se gli imprenditori gli artigiani i commercianti gli amici le associazioni smettono di dire siamo apartitici forse è il momento in cui invece bisogna dare una mano perché noi vogliamo essere il partito che libera l'Italia però coloro che devono essere liberati devono venire a tirarsi sulle maniche non è più tempo di atteggiamenti di indipendenza l'Italia sta alla vigilia di un rischio altissimo e credo che dobbiamo tutti quanti concorrere per evitare questo rischio in bocca al lupo a Stefano Parisi e Maurizio Sacconi tornate a trovarci grazie state con noi dando una mano al pico alla pubblicità fra poco bentornati a Roma incontra il low cost è una delle caratteristiche della nostra vita ma non c'è solo il low cost che conoscete tutti quello aereo ce ne sono anche altri ce lo facciamo spiegare dal country manager Italia di Flixbus Andrea Incondi Comasco 31 anni laureato da Bocconi studi in Canada esperienze professionali tra Germania e Italia in varie multinazionali ora è a capo di questa start up che è nata in Germania nel 2011 e che è diventata in pochi anni leader del trasporto su gomma Pullman quindi è la versione Pullman di Ryanair tanto per capirci però dalla sua nascita che pochi anni fa hanno viaggiato su questi Pullman di Flixbus 60 milioni di passeggeri in tutta Europa 3 milioni e mezzo in Italia in un anno e mezzo collega 900 città di cui 120 in Italia in 20 paesi europei fa 10 mila viaggi 100 mila viaggi al giorno con oltre mille dipendenti tanto successo tanti nemici immagino ahimè questo è vero che è successo che succede intanto chi è venuto in mente di fare Flixbus qualcuno che ha detto facciamo Ryanair con le ruote diciamo che l'idea è nata in Germania a seguito della liberalizzazione del mercato delle linee di media lunga percorrenza è lì nel 2013 che tre giovani ragazzi hanno inventato questa nuova idea di mobilità innovativa perché unisce una forte componente tecnologica da una parte che è quella di Flixbus e dall'altra tante aziende di autobus che svolgono il servizio operativo per conto di Flixbus perché voi non è che avete preso degli autobus ex novo mettete diciamo a sistema in rete strutture già esistenti esatto quello che noi facciamo è proprio questo noi abbiamo una visione la visione è quella di far trasportare di dare la possibilità a tutti di viaggiare in Italia in Europa in tutte le città a prezzi convenienti quindi creare una rete capillare in tutta Europa in tutta Italia e di farlo velocemente lei lo sa a proposito di prezzi che si dice che fate dumping cioè che è appena uscito proprio poche ore fa proprio un parere dell'antitrust che invece dichiara che non solo Flixbus opera pienamente e legittimamente in Italia ma anzi ha rivitalizzato un settore che invece sembrava tendere invece un po' all'abbattimento ma faccio un esempio il prezzo su un autobus su un pullman vostro rispetto a quelli prima che voi ci foste ma dipende dipende dal di cosa stiamo parlando allora prima di tutto noi applichiamo una politica di prezzo di cosiddetta dinamica quindi chi prenota prima trova prezzi più convenienti questa è la prima regola e poi secondo algoritmi che seguono anche la capienza dell'autobus quindi utilizzando la tecnologia noi quello che facciamo auto smesso vuoto prima di partire te lo svendo anche il biglietto più che svenderlo è che se ci sono ancora molti più posti disponibili c'è la possibilità di trovare prezzi più convenienti anche se sia ridosso della data se invece l'autobus è pieno e siamo a ridosso della data i prezzi sono dinamici quello che fanno tutte le compagnie anche aeree come Easyjet come Ryanair e tante altre si applica proprio una logica di prezzi dinamici però qualcuno vi ha accusato di concorrenza sleale di fare concorrenza non regolare e quindi vi vorrebbero cancellare così quello che dicono è un'opinione personale quello che dice l'antitrust è molto differente che sembra più lente autorevole che lo può descrivere c'è un decreto quello che si chiama mille proroghe che ormai è diventata una specie di Sarchiappone dove ci si mette dentro tutto e c'è finito dentro anche una norma che molti dicono se fosse se passasse vi impedirebbe di fatto cosa dice questa norma? con il mille prologo si è aggiunto un emendamento all'ultimo minuto diciamo dove si è andato a dire che fondamentalmente per ottenere le autorizzazioni per operare le linee l'operatore economico deve svolgere come attività principale il trasporto passeggeri ossia deve avere gli autobus deve avere gli autisti tradotto quello che non siamo noi perché noi otteniamo le autorizzazioni in collaborazione con aziende di autobus che svolgono il servizio in questo caso vorrebbe dire che non ci permetterebbe la possibilità di operare in Italia come abbiamo operato fino ad oggi senta ma chi è stata la manina che ha messo quell'emendamento ma per noi queste cose è difficile anche comprenderle sappiamo che utilizzando lo strumento del mille proroghe si è inserito da parte di alcuni senatori un emendamento che erano di maggioranza questi senatori non erano di maggioranza erano di minoranza erano di minoranza ed appartenono al gruppo di Corra cioè conservatori riformisti mi sono un po' perso mi sono un po' perso capito vi siete fatti fregare proprio dagli ultimi però scusi guardi noi siamo ragazzi che l'interesse è quello di far sì che i giovani italiani i giovani europei viaggino su autobus che possono comprare il biglietto sulla propria app sul proprio smartphone che questo è quello che noi ci piace fare siamo tutti ragazzi mediamente di questa età di 30 anni e noi di fare queste cose della politica poco ci interessa ho capito ma se non fate un po' di lobby qua finite male c'è qua il senatore ex senatore ma si rimane sempre senatore Ayala che vi può dare qualche consiglio su come si fa deve passare poi in aula deve avere voti alla maggioranza eh beh certo infatti qualche scelta se fosse così il primo di giugno voi dovete tirare giù la sua scelta noi sicuramente abbiamo noi sappiamo che c'è stato un impegno dichiarato da parte del governo da parte del vice ministro Nencini che questa norma verrà cancellata al primo provvedimento utile quindi noi siamo estremamente fiduciosi che questa questa norma verrà cancellata in tempo per continuare a operare in Italia ho visto sulla rete che c'è un circolo una petizione per difendervi l'avete promossa voi è una petizione che è stata promossa da strade pochi giorni fa strade è un'associazione che si occupa è un'attestata anche giornalizia che si occupa proprio di temi legati alla mobilità su strada che ha proprio promosso questa iniziativa per dire mi raccomando governo sta passando il tempo è ora di fare una norma che cancelli questo diciamo pasticcio che è stato fatto una petizione che solamente in tre giorni da quando è stata pubblicata ha raccolto oltre 30.000 firme senta però come avete fatto in poco tempo a raggiungere questi livelli cioè 100.000 passeggeri al giorno l'ho detto giusto a livello europeo sì a livello europeo 100.000 passeggeri vuol dire che c'è stata una corsa c'era una domanda che aveva inespressa questo è l'aspetto più interessante noi prima di entrare nel mercato italiano siamo andati in giro nelle università a verificare se ci fosse una domanda interessata al servizio di trasporto con autobus e quando chiedevamo ma viaggereste appunto per tornare a casa in autobus a prezzi anche più convenienti l'idea che era dell'autobus era l'idea che fosse qualcosa di vecchio qualcosa che è legato alla gita scolastica non è mai stata considerata come una scelta di trasporto per i giovani sempre qualcosa di ultima ultima spiaggia e lì abbiamo riconosciuto che però una richiesta c'era una domanda c'era però mancava un'offerta appropriata e quello che abbiamo fatto è stato proprio creare un'offerta appropriata ossia mettere su in brevissimo tempo una rete ben diffusa di città collegate servizi con autobus moderni con wifi a bordo prese elettriche la possibilità di stare seduti con comfort e la possibilità di vedere le proprie offerte direttamente sulla propria app o sul proprio computer cosa che prima se si voleva sapere quando partiva il pullman o quando partiva da dove partiva necessariamente bisognava sempre andare alla fermata della stazione o bisognava chiedere a parenti che avevano provato il servizio prima questa è una cosa che ha disincentivato nel tempo all'utilizzare e poi soprattutto non c'è la tecnologia a bordo treni aerei tutti si sono adeguati al mercato sulla corriera sugli autobus si è rimasti più indietro proponendo questo tipo di offerta è stato subito immediato immediato i giovani hanno subito detto questo basta muoversi con la propria auto basta non avere soluzioni per viaggiare ora c'è c'è Flixbus lo compro il biglietto me lo prendo torno indietro sono stato contento e così via senta quindi è il pubblico prevalentemente giovanile il target è fondamentalmente giovane perché c'è un fit tra noi che guidiamo un po' l'azienda e il prodotto ma anche perché sono le persone che hanno più disponibilità di tempo e meno disponibilità economica quindi i ragazzi semplicemente viaggiano più spesso perché c'è più convenienza a farlo ma cosa sono studenti fuori sede prevalentemente sono studenti studenti fuori sede giovani che hanno appena iniziato a lavorare che lavorano diciamo i cosiddetti pendolari del weekend che quindi lavorano fuori sede e poi rientrano a casa ma quello che abbiamo osservato guardando la Germania che è due anni avanti a noi è che poi una volta che hai un'offerta estesa su tutto il territorio dove si collegano centri anche che oggi la ferrovia non arriva come ad esempio Matera e così via a un certo punto l'utilizzo di questo mezzo è trasversale quindi lo usano le famiglie per risparmiare e non prendere la propria auto privata lo usano le persone più anziane lo usano diciamo insomma tutte le categorie ma mediamente il percorso è medio lungo breve allora sicuramente l'Italia è un paese rispetto ad esempio la Germania lungo quindi sicuramente noi abbiamo collegamenti che vanno da Milano a Bari che impiegano dalle 8 alle 10 ore da Milano a Roma impiegano dalle 6 alle 8 ore però noi vediamo che ad esempio tratte molto ricercate sono la Milano Genova la Milano Venezia la Venezia Bologna scusate un attimo ma perché io che ho che ho il treno e posso accedere non necessariamente devo andare in prima classe cioè quindi a prezzi relativi c'ho un Frecciarossa che in 3 ore sicuramente cioè rispetto al Frecciarossa seconda classe se vengo sul bus il Frecciarossa se si acquista mediamente costa attorno ai 90 euro si possono trovare anche lì delle offerte ovviamente noi riusciamo a offrire Milano a Roma dai 19 ai 25 euro ad esempio è vero che stai sull'autobus non manco la benzina ci fate con 19 se lo riempiamo l'autobus e gli autobus che abbiamo con questi prezzi dinamici non solo ci paghiamo la benzina ci facciamo stare in piedi le aziende che lavorano con noi e stiamo in piedi pure noi e abbiamo offerto alle persone un servizio che oggi non esisteva voi cosa fate? prendete una percentuale si ci sono degli accordi commerciali di questo tipo la struttura quindi di Flixbus è molto è molto c'è poca gente insomma il grosso dei lavoratori sono nelle aziende consorziate perché noi ci occupiamo e questo è importante di tutto quello che è la pianificazione della rete cioè noi pianifichiamo quale linee quali collegamenti fare quindi ci sono ingegneri del trasporto che si occupano giornalmente di verificare quali orari quale città fare ci occupiamo di tutto il marketing quindi quello online quindi tutte le comunicazioni attraverso i social tutte le pubblicità che devono essere fatte ci occupiamo di tutto la costruzione della piattaforma tecnologica tutto quello che è la logica dei prezzi tutto quello che è il customer service quindi quelli che rispondono al telefono abbiamo un team che è dedicato a prendere le autorizzazioni per operare un team che è dedicato a cercare le aziende che possono essere i nostri partner e così via cosa fa l'azienda per questo e anche da parte dei partner Flixus rappresenta una grande opportunità l'azienda deve mettere a disposizione uno o due autobus a seconda della dimensione che ha lo fa diventare verde e si deve occupare semplicemente di partire la mattina nell'orario stabilito tutti i vostri autobus sono verdi tutti verdi tutti verdi anche se appartengono a tante aziende differenti deve partire la mattina alle 8.30 e arriva a destinazione alle 5 da lì ritorna indietro e va avanti quindi per le aziende abbiamo diciamo le abbiamo dato la possibilità di entrare all'interno di un settore la media e lunga percorrenza a investimenti limitati ma l'abbiamo liberato liberato è di tutto quella complessità quindi autorizzativa di pianificazione pubblicitaria comunicazione che loro da soli non erano in grado di fare quindi è proprio un'unione di due mondi complementari la loro qualità la loro eccellenza operativa unita alla nostra capacità tecnologica e di comunicazione unite siamo forti è questo quello che alla gente non piace che siamo forti la gente spero che la gente piaccia ma senta ma ecco se Uber ha i tassisti che sono leggermente incavolati voi chi avete che sono incavolati con voi? ma sicuramente noi siamo entrati all'interno di un mercato liberalizzato però che veniva da un regime concessorio cosa vuol dire regime concessorio? dove prima ad una determinata azienda di auto concessioni tra l'altro di solito comunali provinciali concessionali che veniva dato proprio dallo Stato la Ministero Trasporti dava una concessione per operare la Milano-Bari e poi quell'azienda la operava in totale monopolio perché essendo la concessione non aveva possibilità che altri potessero ottenere la medesima concessione quindi siamo venuti da una cultura di questo tipo dove ci siamo trovati in realtà quasi monopolistica di feudi fondamentalmente ognuno si occupava la sua parte sicuramente adesso che il mercato è libero che Flixus opera sicuramente a qualcuno non può andarno ma secondo lei questa nuova cultura dal car sharing a tutto a Uber all'applicazione del low cost alle varie tipologie come mai ha riguardato se non esclusivamente principalmente il trasporto ma mi viene da dire perché il trasporto la mobilità come si dice il trasporto la mobilità rappresenta una di quelle esigenze dell'uomo cioè diciamo fin dall'uomo preistorico si è sempre cercato di innovarsi nella mobilità dalla ruota creata fino arrivati ai giorni d'oggi dove continuamente il settore della mobilità cambia parliamo di vediamo macchine che non sono guidate fondamentalmente con la pilota diciamo automatico a macchine elettriche che possono fare sempre più distanza o a treni o aerei che possono aggiungere velocità sempre superiori quindi l'uomo per definizione si spinge molto a innovare sempre la mobilità che rappresenta un'esigenza molto importante Seta negli altri paesi c'è più o meno negli altri paesi europei dove siete voi c'è più o meno diciamo spirito di concorrenza e libertà di concorrenza ma in realtà a che punto siamo dalla classifica in realtà in tutti i paesi noi operiamo in 20 paesi europei in questo momento c'è diversi livelli di competizione ne mancano 7 ne mancano 7 siamo quasi arrivati l'ottavo l'abbiamo cancellato se ne è uscito se ne è uscito e c'è più o meno livelli di competizione quello che però è l'unica l'unica peculiarità del mercato italiano è che è l'unico paese dove ci sono delle regole ben definite uno arriva opera secondo quelle regole e poi gliele cambiano in corsa questo è l'unica cosa che accade tra i 20 paesi europei in cui stiamo operando Seta quanto è caduta secondo lei nel trasporto l'idea del possesso cioè la macchina mia vado con la mia macchina da solo quanto e riguarda solo i giovani o anche le persone di una certa età come si dice il tema della sharing economy è un tema che insomma coinvolge e sta rivoluzionando tanti settori non solo la mobilità anche immagino dal mondo di Airbnb quindi il mondo degli alberghi e tanti altri esempi come Amazon e così via dove diciamo si parla di sharing economy quello che mi sento di dire è che la sharing economy è qualcosa che ha cambiato il modo in cui viviamo o abbiamo o usufruiamo di certe cose sicuramente c'è un momento di come possiedere di transizione in questa fase perché da una parte le persone lo utilizzano piace lo vogliono e così via dall'altra parte c'è un'esigenza comunque politica e imprenditoriale che deve essere definita contestualizzata normalizzata insomma se questo accade se questo accade secondo me è un mondo che rappresenterà il nostro futuro sempre di più ma lei come le è venuto in mente ma allora come ho iniziato Flix with Italia è legato un po' alla mia storia personale io vivevo e lavoravo in Italia e per ragione diciamo di amore mi sono trasferito in Germania a Monaco di Baviera ho lasciato il lavoro in Italia mi sono lanciato e ho detto qualcosa in Germania sicuramente ci sarà quando sono arrivato in Germania a Monaco di Baviera ho trovato un terreno estremamente l'amore era in Italia se ne è dovuto andare o era in Germania andata a cercarlo l'amore era italiana che è andata che è scappata in Germania e sono dovuto andarla a riprendere lei la rincorsa diciamo sono dovuto andarla a riprendere perché non voleva più tornare era giusto di farci due forcinate di fatti suoi non voleva più tornare allora quando sono andato là e alla ricerca del lavoro sono venuto a contatto di tantissime esperienze start up soprattutto nel mondo digitale e tecnologico tra queste fu proprio Flixbus io mi ricordo ero su un autobus per piacere personale tra Monaco e Berlino un autobus Flixbus e mentre ero lì su questo auto dicevo ma perché in Italia cioè quei tutti giovani viaggiano tra le città non c'era ancora Flixbus in Italia non c'era ancora e mi dicevo ma perché tutti viaggiano con l'auto in Germania così comodo così bello ho comprato il biglietto sull'app questa cosa mi sono detto ci deve essere anche in Italia allora sono tornato a casa ho cominciato a studiare un po' come Flixbus lavora ho scoperto tutta la tematica dei partner ho scoperto come funzionava e ho cominciato ad analizzare com'era il mercato italiano ho analizzato come come era tutta la normativa qual era il mercato e così via a un certo punto mi sono detto la laurea alla bocconi le è servita è servita qualcosa finalmente mio padre era molto contento di questo a un certo punto mi sono detto si può fare in Italia si può fare allora ho preparato una piccola presentazione e così l'ho mandata ai fondatori via email ho detto guardate se volete parlare dell'Italia senza manco lo conosci neanche senza conosci ho detto se volete parlare d'Italia ve ne posso raccontare un po' di più e loro mi hanno chiamato e abbiamo discusso quasi è stato il colloquio ha durato quasi 5 ore visto l'intraprendenza abbiamo trovato si può fare e loro hanno detto va bene la facciamo e vorrei che la facessi tu per noi e da lì è nata e da lì siamo arrivati a 3 milioni e mezzo di passeggeri in due anni e non l'hanno ancora licenziata per ora ci ripetiamo forse fra un anno adesso non so se dopo questa intervista senta mi tolga mi tolga un'ultima curiosità siccome dopo di lei tocca ad Aldo Cazzullo che nel suo libro ha raccolto le interviste di tanti personaggi tra cui anche molti personaggi del mondo dell'economia delle imprese eccetera chi è il suo modello ideale di imprenditorio Bill Gates o chi? ma io mi sono appassionato tantissimo Steve Jobs sempre un americano si chiama Elon Musk è il fondatore di Paypal ha fatto la macchina Tesla quella elettrica sta facendo sta mandando i razzi nello spazio li sta facendo tornare quindi sta praticamente sfidando la NASA quindi un visionario che ho letto il suo libro ha avuto innumerevoli difficoltà ma è uno che ha detto questa è la mia visione e questo io la farò ed è riuscito pian piano a costruire e quindi lei cosa c'è in testa di fare? la stessa identica cosa non è rimandare i razzi nel cielo però fondamentalmente io quello che vedo e vorrei per me è il fatto che come in Italia nonostante siano queste difficoltà nonostante è si può portare innovazione si può portare qualcosa di nuovo si può fare servizio nonostante difficoltà ce la faremo si può fare un messaggio positivo grazie a Andrea Incondi di essere stato con noi auguri per il suo lavoro bloccate il mille proroghe state con noi diamo una mano al picco alla pubblicità tra poco bentornati a Roma Incontra non ha bisogno di presentazioni presentiamo invece di lui presentiamo il suo libro che si chiama l'intervista i 70 italiani che resteranno è Aldo Cazzullo ciao buonasera allora di lui sapete già tutto è inutile che vi racconti le sue gesta giornalistiche e soprattutto anche quelle librarie perché ormai questo cos'è il decimo, undicesimo libro il ventesimo il ventesimo avevo perso il conto è un libro ma prima di tutto scusa toglimi una curiosità non tanto a me quanto a loro teoricamente non me lo sarei dovuto dimenticare cos'è il segreto di un'intervista ma per te qual è il modo migliore di fare un'intervista la buona riuscita di un'intervista dipende dalle domande o dipende dalle risposte ma sai le due cose sono collegate io cerco di stare il più tempo possibile con l'intervistato e farlo parlare farlo parlare di solito si comincia parlando dei genitori dei nonni della famiglia della sua storia e poi bisogna cercare portarlo a dire cose che magari neanche sapeva di poter dire ti faccio un esempio Vasco Rossi io ero abbastanza intimorito da Vasco perché Vasco ha fama di burbero di uno che insomma se gli fai domanda sbagliata si alza e se ne va e quindi Vasco però ho cominciato a farlo parlare di suo padre di suo nonno nonno era stato un disertore della grande guerra era rischiato di essere fucilato il padre era stato prigioniero in Germania e Vasco Rossi si chiama Vasco perché Vasco era un compagno di prigionia del padre che lo ha salvato durante un bombardamento e poi è arrivato sino a raccontare le cose che non aveva mai raccontato ad esempio la nascita dei suoi due figli legittimi lui Vasco nell'83-84 negli anni del massimo successo alla fine di ogni concerto c'era sempre una ragazza che si offriva e lui sceglieva e qualche volta aveva venuto a dire come dice lui mica sempre stavo attento e quindi un giorno si trova Zocca sotto casa sua noi stonati invece una ragazza con un passeggino e un bambino dicendo questo è tuo figlio e dice io l'ho mandata via pensavo che fosse una matta questa è tornata il giorno dopo e allora facciamo il test del DNA ed era mio dice l'ho riconosciuto però il giorno dopo è venuta un'altra ragazza con un altro passeggino un altro figlio e dice vabbè faccio il test del DNA e lei dice no ti devi fidare e allora dice l'ho mandata via però a quel punto il bambino quando è cresciuto a 4 ore 10 anni ha chiesto lui di fare il test del DNA e Vasco dice ho fatto il test del DNA era mio anche quello ho riconosciuto anche lui e poi finalmente ha fatto un terzo figlio con la donna diciamo che la pubblicità dei preservativi non gliela possono far fare diciamo senti però la tua prima intervista è stata nel 1889 con Giulio Andreotti durante la fiera del tartufo di Alba avevo ancora i capelli e lui era presidente tanto per cambiare era presidente del consiglio io non ce lo vedo Andreotti a dare la grattata di tartufo non mi sembra uno che come dire pane politica pane potere ma sono il tartufo no invece sapeva anche godersi la vita poi l'intervista che ho scelto ho fatto molto intervista a Andreotti quella che ho scelto per il libro e quella che facciamo un giorno in cui lo accompagnai per la prima volta lui andò a una manifestazione di protesta in piazza era piazza San Giovanni ma ovviamente non era una manifestazione del PC era il family day il giorno in cui si protestava contro la fecondazione assistita le unioni civili una roba abbastanza recente insomma era alla fine del suo percorso però era ancora Andreotti era ancora molto romano molto sarcastico molto lucido essenziale grande semplificatore non ha mai chiesto di rileggere un'intervista e di quella prima intervista che al di là dei contenuti dell'intervista collateralmente che cosa ti ricordi? una persona grande semplificatore a volte il confine tra semplificare è banale e abbastanza labile ma in quella volta lì però disse eravamo alle elezioni di Roma nell'89 ci furono delle amministrative la DC stava zoppicando agli scandali si pensava che avrebbe vinto il partito comunista c'era ancora il PC Reichlin era capolista e lui disse a Roma non succederà nulla infatti la DC ha rivinto l'elezione tranquillamente ma da lì a 2-3 anni invece sarebbe successo tutto e poi ci ritrovammo all'MSI a oltre il 30% ed era ancora l'MSI di finire ancora segretario del momento sociale e Androtti era riuscito a tenere i voti di destra dentro la DC ma a quel punto anche la sua magia era finita era finita senti invece l'ultima intervista che non è lì è quella che è uscita cos'era domenica ieri sul sul Corriere quella al Cardinal Scola che ti ha convinto quando ti ha detto che che lui insomma la verità sul conclave è un po' diversa da come è stata raccontata che lui non era l'antagonista di Bergoglio beh no lui non dice che non era l'antagonista lui dice sul conclave sono uscite tante falsità e sarebbe meglio rendere tutto pubblico io l'ho capita così lui voleva dire ho preso più voti di quelli che poi sono usciti sui giornali l'ho interpretata così forse non ha torto perché a volte ci convinciamo di cose che sono successe nel conclave che invece non sono vere ad esempio il conclave nel 2005 quello che lesse Ratzinger si scrisse che Bergoglio aveva avuto un cedimento morale davanti al Cristo della Sistina dice no non me la sento no in realtà Bergoglio non volle fare la pietra d'inciampo per Ratzinger che Martini aveva candidato c'è anche il cardinal Martini nel libro Martini e Ruini mi pare sono i due esatto Martini aveva candidato Bergoglio contro Ratzinger sostenuto da Ruini anche da Scola poi Bergoglio quando vede che sarebbe stata la pietra d'inciampo di Ratzinger dice no se volete fare Ratzinger fate Ratzinger e in questo modo ha salvato la sua candidatura poi la conclave successiva che infatti ha vinto mi sembra brutto dirlo l'ha visto tre valere senti a proposito di Ruini e Martini lo schema Martini a sinistra e Ruini a destra è una semplificazione eccessiva o risponde in fondo beh c'è del vero c'è del vero anche se Martini lui si considerava un conservatore diceva io non sono un progressista però di fatto rispetto a Ruini Martini l'ho incontrato da questa volta in Italia poi sono andato a trovarlo nel 2005 quando era all'istituto biblico di Gerusalemme e si sapeva che si era la vigia del conclave perché Uitiva stava già molto male però Martini non ho avuto io chiesto come sta eminenza lui è tremando ma ha risposto vado il Parkinson non mi dà tregua cioè quest'uomo che si sapeva sarebbe stato uno dei protagonisti del conclave non si sapeva che non sarebbe diventato papa ma si sapeva che aveva molte carte da giocare infatti le aveva e le giocò però non aveva timore di mostrarsi indifeso fragile quasi nudo di fronte a un giornalista che comunque conosceva appena e una cosa che ho imparato intervistando questi 70 italiani che resteranno è che i veri grandi sono disponibili sorridenti raccontano parlano di sé cerco di nascondere non hanno paura esatto quelli che se la tirano che si nascondono che smentiscono che sono sempre quelli che valgono poco non dovrebbero avere diritto che non resteranno ecco che non resteranno senti ma per concludere la diciamo questa carellata vaticana si è fatto fregare da Scalfari parla un giorno sia l'altro pure con Bergoglio tu non sai Scalfari del resto è il nostro decano è il nostro grande vecchio e quindi bisogna cedere il passo sì un laicone come lui che flirta con beh dai a 90 anni passati portare al tuo giornale un'intervista al Papa sono sempre da prendere ma per carità senti ma tu gli hai chiesto al Papa di poterlo intervistare sai non essendo italiano non fa parte degli italiani che resterà per cui lui resterà senz'altro ma insomma avevo la scusa piccola bugia se supponendo che ce l'avessi qui e non che voglia fare io quella parte lì per carità ma ma la domanda più più per metterlo in difficoltà più più cattiva tra virgolette che gli faresti a Papa Bergoglio qual è? no gli chiederei se lui non crede di essere andato oltre il mandato che i cardinali che l'hanno eletto gli avevano dato al momento dell'elezione io penso che se loro avessero saputo che Bergoglio era così non l'avrebbero eletto e io sono molto contento che Bergoglio invece sia così senti come è che hai perché 70 come li hai selezionati e chi è siccome tu ne hai intervistato di 70 che hai messo qui quanti ce ne saranno che sono rimasti fuori di quelli già intervistati un bel po' c'è qualcuno che si è incavolato e ha detto ma come non mi hai messo dentro ma c'è qualcuno che si è un po' resentito in realtà io l'ho detto così per battuta ho cercato di limitare i politici anche perché ti racconto questa cosa l'altro giorno avevo il libro in mano il tassista mi ha chiesto ma che libro ha fatto io ho detto beh i 70 italiani che resteranno e ho cominciato ad elencare i politici Cossiga che racconta i segreti del caso Moro dice a un certo punto l'abbiamo lasciato morire Scalfaro Napolitano Ciampi Craxi che dice da Mammet voglio essere operato qui morire qui ed essere sepolto qui Berlusconi intervistato nel giorno in cui esce da Palazzo Chigi Bossi quando rientra in politica dopo Lictus e poi dico beh però poi non sono politiche poi Renfilet D'Alema Amato Veltronico poi ci sono anche cantanti Vasco Rossi Laura Pausini anche il tassista mi ha detto scusi ma perché dovrebbero arrestare Laura Pausini dico no ma io non ho mica detto questo no a lei ha scritto i 70 italiani che arresteranno quindi tutto l'elenco dei politici sui politici non ha mai detto niente non hanno fatto una piega non hanno ascoltato che li arrestassero tutti anche quelli morti invece la Pausini è innocente era Pausini giustamente senti ma ma anche Scalfaro proprio lo devi mettere beh comunque è stato capo dello Stato è stato molto detestato ma è stato anche amato lui è diventato un po' il capo dei girotondi in quella fase che l'ho intervistato io me lo sarei risparmiato però comunque senti però c'è anche Valanzasca e siccome l'ho messo dal più giovane al più vecchio quindi da Bebevio a Rita Levi Montalcini dalla storia di Bebevio conosce meravigliosa promessa della scherma a 11 anni meningite fulminante amputate braccia e gambe ma lei dice a papà e mamma voglio braccia e gambe nuove perché un giorno vincerò le Olimpiadi e vince la medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Rio la storia è fantastica fino a Rita Levi Montalcini che grazie a tua moglie intervistai il giorno prima che compisse 100 anni e lui è messo dalla più giovane alla più anziana e quindi in questo ordine cronologico facciamo con Iole i festeggiamenti per i cent'anni della Montalcini fu una cosa molto emozionante come te la ricordi la Montalcini ricordo stupendo occhi bellissimi gioielli che disegnava da sé e lei mi disse molto leziosa ci teneva molto a me sembrava arrivare non dall'inizio secolo ma dall'ottocento e disse io non avrei mai vinto il Nobel se il Duce non avesse fatto le leggi razziali costringendomi a chiudermi sotto falso nome in uno stanzino a studiare e poi Rita Levi Montalcini andò in America e le chiedevano dove fosse suo marito e lei rispondeva I am my own husband io sono il marito di me stessa e loro non capivano pensavano che non sapesse l'inglese ma lei aveva giurato di non sposarsi mai perché diceva non voleva obbedire a un uomo come sua madre obbediva a suo padre e in America Rita Levi Montalcini vide le donne nere alzarsi in piedi sugli autobus per cedere il posto agli uomini bianchi fino a quando una di loro Rosa Parks una donna delle polizie dell'Alabama rifiutò di alzarsi in piedi cominciando la rivolta dei diritti civili una delle tante rivoluzioni fatte dalle donne sono sempre le donne che fanno la storia perché come è noto le donne riliterranno la terra e se dovesse fare un libro tra vent'anni un'altra quarta di interviste le donne sarebbero molte di più siccome siete di più e quindi lui vende più libri capito? mi ha fatto l'è però non ho finito di raccontarti che a causa di questo fatto che si va dal più giovane al più vecchio poi c'è anche in fondo Sofia Viscardi che ha soltanto 18 anni la blogger da 2 milioni di follower ecco devo dirti che di tutti i nomi che ho visto lì sapevo di chi fossero tutti meno che questo è la denuncia della mia età mi sono chiesto se inserire anche Sofia o no e mi sono detto di sì perfetta Nativa ecco la foto chi è che sa chi è ecco la qua chi è che sa chi è questa qua c'è ecco una mano sola alzata allora racconta chi è perché vedi che non c'è nessuno che lo sappia no ma anch'io non la conoscevo però cercando appunto di abbassare un po' l'età media dei miei intervistati e mi sono imbattuto questa ragazza che ha 18 anni ha 2 milioni di follower che vuol dire che praticamente tutti i suoi coetanei la seguono su internet e ho pensato ha qualcosa da dire e soprattutto ha da spiegare a me o ai miei genitori chi sono i nostri figli i nostri nipoti è una youtuber come si dice esatto allora siccome avevo letto che aveva scritto di lei Gian Piero Mughini il nostro comune collega amico e quale aveva detto questi numeri non vogliono dire niente i numeri di internet sono aleatori e 2 milioni di follower di Sofia Viscardi valgono meno delle 80 coppie in cui Giuseppe Ungaretti stampò la prima edizione del Porto Sepolto e allora ha cominciato l'intervista con questa obiezione Mughini dice che vale più 80 coppie Ungaretti che 2 milioni e lei mi ha risposto e chi è Mughini vabbè è un giornale allora io ho detto ma almeno Ungaretti le piace non deve essere Juventina io ho detto ma almeno Ungaretti le piace lei mi ha risposto Ungaretti non lo so non l'abbiamo ancora fatto a scuola siamo arrivati a Pirandello però a Pirandello le piace molto no però voglio dirti questa cosa dell'età perché se no allora in sostanza a causa di questo gioco dell'età dal più giovane al più vecchio il povero Vallanzasca è finito in mezzo a Antonio Di Pietro e Pier Camillo Davigo praticamente è il posto suo tra i carabinieri è il posto suo ci mancava Iala e poi la mamma posta però qualche milanese mi ha detto ma perché ha messo Vallanzasca a un bandito è vero però Vallanzasca in intervista abbiamo visto insieme il film sulla sua vita e lui dice io ho sbagliato tutto è vero che ero diventato un eroe mi scrivevano le donne in carcere e in realtà io ho buttato via la mia vita quella dei miei uomini quella di molti poliziotti quindi non fate come a me ecco quindi mi sembrava significativo mentre anche Di Pietro su un modo fotocritico era sincero quando disse io penso di sì perché un uomo distrutto non ha più un dente intero ha preso un sacco di botte dai secondini in carcere è un uomo che comunque ha fatto del male ma l'ha anche pagato tante persone in Italia fanno del male e non pagano male senti gli attori vanno da Sordi a Checo Zalone è il segno che la curva com'è? giù in su così guarda Sordi in realtà io purtroppo non l'ho mai conosciuto però ho voluto metterlo nel libro perché non si può fare un libro sui grandi italiani senza mettere Alberto Sordi e siccome ho raccontato i suoi funerali ho inserito questo articolo in cui racconto il modo in cui i romani danno l'addio a Alberto Sordi io sono convinto che a ogni funerale ognuno in realtà pianga la propria morte la paura che ha ma nel caso di Sordi a maggior ragione è vero perché Sordi è stato tutti quanti noi e non soltanto perché è stato Pizzardone è stato Tassinaro è stato giornalista è stato medico ma perché ha interpretato davvero l'anima della capitale d'Italia quindi dell'Italia Sordi è stato l'italiano per eccellenza a proposito di funerali ti consiglio di ascoltare poi chi viene dopo di te cioè Emanuele Salce ma se ti fermi capirai perché te l'ho detto vai pure avanti Checo Sordi invece l'ho intervistato per Io Donna lui è stato gentilissimo simpaticissimo dico ma è davvero così mi raccontato anche che episodi molto divertenti come una volta che lui è molto amico di Cassano il calciatore e un giorno Cassano telefona al cellulare di Checo Salone ma risponde Gennaro Annunziante che è il regista dei suoi film e allora Cassano gli dice in Baresi naturalmente in Baresi gli dice e ricchione e lui dice no non sono Checo sono Gennaro Annunziante il regista dei suoi film e Cassano e allora sei ricchione pure tu comunque Checo è stato gentilissimo io infatti mi chiedevo ma davvero così è urticante ma è una pasta d'uomo è gentile sorride educata facciamo questa intervista e alla fine mi disse vabbè allora anche questa intervista io donna ce la siamo levata dai senti no io me lo ricordo Checo Zalone che è venuto a Cortina mi ho trovato un po' preoccupato di salire sul palco di Cortina e incontro non so forse perché davamo un senso di di preoccupazione senti ma non li hai divisi per categorie ma se avessi fatto questa suddivisione Beppe Grillo lo mettevi tra i comici o tra i politici ma guarda lui fin da quando faceva il comico aveva talento politico io l'ho conosciuto avevo 18 anni ad Alba il mio paese organizzavamo degli spettacoli veniva un cantante un cabarettista di solito arrivava all'ultimo momento beveva un bicchiere di Barolo se era stagione chiedeva il tartufo prendeva ovviamente giustamente i soldi faceva lo spettacolo e se ne andava Beppe Grillo arrivò il mattino passò tutta la giornata con noi cercò di capire come si parlava ad Alba come si pensava e la prima cosa che ci chiese fu come si dice qua vaffanculo e noi gli dicemmo che ad Alba non chiedetemi perché ad Alba per dimandare qualcuno a quel paese si dice scusa la volgarità vai a cagare a Roddi che è un paesino allora lui salì sul palco e come prima cosa fece l'elenco dei biglietti omaggio e disse dov'è l'assessore alla cultura si alzi in piedi sono qua dica almeno grazie che ha chiesto biglietto omaggio tanto la gente cominciava a mugugnare insomma fece l'elenco il prefetto il questore le autorità locali costrette ad ammettere che avevano avuto biglietto omaggio e poi disse andate tutti a cagare a Roddi venne giù la sala dalle applausi perché il vivo televisivo qual era allora Grillo si era calato sul solco era venuto nel piccolo paese e parlava come noi e lì si capiva che aveva che aveva fiuto politico poi nel libro c'è l'intervista che gli feci quando non era ancora leader dei 5 Stelle ma prese posizione contro la fecondazione assistita e contro in genere la modernità dicendo della vita abbiamo fatto mercato e tutto quello che è mercato finisce per avere un codice a barre e un conto alle isole Caiman e poi l'ho intervistato l'ultima volta e quando attraversò a nuoto lo stretto di Messina lui era un po' timoroso infatti i suoi fan cercavano di trattenerlo gli dicevano Beppe ci sono le correnti contrarie ci sono i barracuda hai 65 anni invece lui guardò Casaleggio che lo incoraggiò si tuffò e fece anche rapidamente lo stretto fece le ultime bracciate a farfalla e poi è uscito ancora gocciolante cominciò a parlare con 3-4 giornalisti che lo stavamo aspettando e cominciò così dicendo tu sei della stampa ma il tuo giornale chiuderà tu sei il Corriere della Sera ma tornerai in redazione non ci sarà più la scrivania ormai non seguite più niente però lui è disarmante a Grillo non puoi voler male perché io lo considero abbastanza pericoloso per il paese però mi rendo conto che è un fondatore come Bossi sono quei cavalli da preda quei falchi quei cavalli di razza quei falchi da preda che poi alla fine brutti antipatici non sono mai quindi Grillo è un grosso personaggio non utile negarlo senti rimanendo in politica tu hai intervistato sia Renzi che Ricoletta in questo momento chi deve stare più sereno tra i due guarda Ricoletta gli fece un'intervista sugli anni 80 che a me non sono piaciuti molto la febbre del sabato sera anche ballare se ballava da soli invece Ricoletta è un grande ammiratore degli anni 80 in particolare del Subutio di cui è un campione anche del cubo di Rubik mentre Renzi l'ho intervistato il giorno del suo 39esimo compleanno era l'11 gennaio del 2014 lui aveva vinto le primarie era già segretario del PD e disse Enrico non si fida di me non capisco perché e da lì a pochi giorni si sarebbe capito benissimo penso che Letta sia tra gli italiani che torneranno ecco Renzi vincerà la grande le primarie però tornerà mai a Palazzo Chigi secondo me non in questo giro qua perché non è il giro della sinistra in Italia c'è un vento di destra o vediamo se riuscirà a intercettarlo ancora Berlusconi con Salvini oppure i 5 Stelle senti hai messo anche qualche straniero però come mai ne ho sacrificati tanti Erdogan Steven Spielberg Daniel Deleuys Keith Richards i Rolling Stones che non mi è piaciuto per niente sembra un satanista però stava in una in una suite del sedicesimo a Parigi non mi è piaciuto altri invece mi sono piaciuti ma non sono tipo Don De Lillo Jacques Le Goff non li ho messi ho messo solo quelli che hanno più attenenza con la nostra vita e quindi ho messo Jean-Marie Le Pen che è il padre di tutti i populisti e Farage che dice alla vigilia di Brexit vinceremo noi e vincerà Grillo in Italia e poi Bill Gates e poi ho messo Bill Gates anche lui non mi è piaciuto molto perché io mi aspettavo di trovare una specie di Leonardo nei nostri tempi è un uomo d'affari parla sempre di soldi e ne ha fatti tanti e li spende anche bene li spende anche molto bene per eradicare la malaria e lì nell'intervista lui annuncia la nascita del tablet spiega che ha inventato una tavoletta con cui si può parlare con cui si può telefonare però poi verrà bruciato sul tempo da Steve Jobs il suo grande rivale che farà l'iPad che non hai mai intervistato Steve Jobs mi manca purtroppo è venuto meno senti ma c'è un'intervista che avresti voluto fare che non sei riuscito cioè hai provato riprovato guarda no ho fatto un errore enorme perché l'ambasciatrice francese allora c'era una donna mi invitò a intervistare Macron un anno e mezzo fa io impegno quel giorno ho pensato ma questo Macron prenderà il 3% guarda non ho tempo non posso adesso ce lo troviamo il presidente francese speriamo che sia lui ma hai pensato di essere troppo furbi speriamo e invece l'intervista che avresti fatto a meno di fare che hai fatto ma che sono quelle che sono qua ci sono tutte di quelle che non sono lì guarda ti posso dire questo che due da cui non mi aspettavo che sono andato pensando vabbè mi tocca fare questa cosa invece mi sono piaciuti molto sono dei dolci e gabbana e tutte e due ho chiesto di raccontarmi l'intervista era unica però era unica tutte e due davanti e ho chiesto a tutte e due ditemi come avete detto a vostra madre di essere gay allora Domenico Dolce siciliano di Polifi Generosa paesino delle Madonie sperduto e lei disse ma io ho detto mamma guarda sono gay e lei mi ha risposto cosa vuol dire vuol dire che mi piacciono gli uomini e lei dice lei l'ha presa bene e mi ha detto vabbè dai passerà dai prova che poi ti passi mentre Stefano Gabbana milanese milanesissimo Milano vicino all'Europa all'avanguardia e così non ha mai avuto il coraggio di dire a sua mamma questa cosa e lei lo seppe da Mentana perché lui aveva fatto un'intervista a Corriere vedi che Mentana fa sempre dei danni tutti i TG hanno ripreso la cosa e quindi il fratello di Stefano Gabbana lo chiamò e gli disse ma sei impazzito ma la mamma ha saputo da Mentana questa cosa e svenuto davanti alla televisione vergogna e il problema è che lui dice mia mamma lo sapeva benissimo che io sono omosessuale però non avevamo mai avuto il coraggio di parlare a proposito per una prossima intervista ti segnalo abbiamo avuto la settimana scorsa a proposito di questi argomenti dose quello del rugito del coniglio abbiamo fatto un'intervista e presentato il suo libro veramente molto interessante senti concludiamo con Feltri perché le tue attività le definisce cazzullate non so se era proprio un complimento era molto affettuoso l'articolo se non era affettuoso che ti diceva vai a cagare a Roddi ma in realtà cazzullo vuol dire mestolo il cazzullo il piemontese è il mestolo ma quando dico a Roma che cazzullo vuol dire mestolo non so perché non ci crede nessuno ma vi assicuro che è così in realtà guarda quell'articolo se volete rileggere su internet infatti dice che somiglia alle cose che faceva Montanelli in realtà poi persino troppo buono però insomma una battuta ci sta io non mi offendo però lui dice che ti propone come direttore del Corriere questo invece non mi è piaciuto perché il direttore del Corriere c'è non lo so comunque il direttore del Corriere c'è bravissimo resterà tale molto lungo ecco queste sono le interviste e quando gli fanno a lui queste risposte dice oh questo ci racconta di che vuoi fare il direttore del Corriere dai su tra tre anni ci rivediamo qua e ci sarà ancora questo direttore che sta facendo molto bene a fare a San Romero e tu avrai scritto altri dieci libri grazie D'Aldo Cazzullo che sei stato con noi leggete il suo libro che è molto interessante diamo una mano al piccolo la pubblicità fra poco per l'ultima parte bentornati a Roma incontra è attore regista ma è soprattutto portatore di una storia molto particolare che adesso ci facciamo raccontare da lui Emanuele Salce buonasera buonasera benvenuto grazie buonasera a tutti allora è nato a Londra 50 anni fa si è diplomato al centro sperimentale di cinematografia è stato assistente di giganti del cinema come di Norisi Scola squittieri e quant'altri ha una grande passione per il teatro e infatti ha portato con grande successo in teatro uno spettacolo che si chiamava perché è già finito insomma ma mi sa che tornerà perché ha avuto talmente tanto successo sono sette anni che andiamo in giro l'ultima replica l'ho fatta ieri a Bologna ah quindi ancora in giro siamo a piede libero da qualche anno mumble mumble ovvero confessione di un orfano d'arte esattamente e riprende la sua storia storia particolare perché perché lui è suo padre era Luciano Salce uno dei più grandi registi della commedia dell'italiana parte l'applauso grazie sua madre diletta d'Andrea anch'essa attrice si è però separata da Salce quando lui aveva due anni ed è diventata la terza e ultima moglie di Vittorio quarta e ultima moglie di Vittorio Gasman quindi Emanuele ha vissuto quindi mamma aveva la passione per il cinema questo non lo facciamo dire ma ecco sembra un fatto per gli uomini del cinema diciamo e quindi lui dall'età di due anni ha vissuto a casa Gasman e quindi è un figlio d'arte ma doppio nel senso che è figlio d'arte di Salce e di Gasman allora crescere con un padre famoso è già un problema crescerne con due è un casino è un corso di sopravvivenza certo sì e come ha fatto a uscirne vivo? guardi ancora non so se sono vivo però cerco di sembrerebbe lei me lo conferma mi rassicuri anche lei perché io vado in cerca di confermare e poi cerchiamo un notario sì beh diciamo che dopo un ventennio forse di morti apparenti in cui certo ho avuto una qualche difficoltà a trovare la mia identità che non fosse necessariamente diciamo una una prosecuzione di uno di quei due e dopo qualche anno di crisi anche poi sono arrivato quasi mi verrebbe dire a raggiungere uno stato di sanificazione o di stabilità per lo meno psicofisica ed è stato un percorso che le assicuro ha richiesto qualche sforzo dopo di che questo umanamente e artisticamente? no artisticamente io sono scappato di casa praticamente a 19 anni e fuggito dalla professione e da ogni eventualità o possibilità di perseguirla ho ritenuto la cosa più sana fosse proprio andare lontano intanto è provato che i geni artistici non vengono ereditati i grandi lei lo sa meglio di me non sono mai stati figli d'arte né Gasman padre né Sordi né Fellini né De Sica né Marlon Brando nessuno di qui né Totò nessuno è figlio d'arte ci sono dei figli d'arte che seguono le ormai dei padri ma nel mondo dello spettacolo come anche nel mondo della finanza della politica dei notai gli avvocati i medici noi siamo un po' più in vista quindi ho pensato fosse buon senso andare altrove anche a fare l'assicuratore come ho fatto studiare altre cose tentativi universitari poi però è tornato sul luogo del delito ma perché sapevo di essere fuggito di avere molte paure la paura del confronto non una mia scelta una scelta che poi la società ti avrebbe in qualche modo imposto però certo il papà ma tuo papà io mi sono trovato sono tornato a fare la professione verso i 40 anni cioè in un'età quasi pensionabile dove almeno il buon senso avrebbe dovuto condurmi lì solo che non avevo vent'anni di un'altra professione avendone cambiata una ogni sei mesi praticamente e mi sono voluto confrontare un po' con le mie paure e con i miei demoni e mi sono messo in gioco tra virgolette a babbo molto è stato un esorcismo beh sì ma intanto non c'era più mio padre da una ventina d'anni e Vittorio da una decina quindi diciamo ero anche a scevolo da sospetti di essere un figlio d'arte o un raccomandato e mi sono messo nel mio piccolo così un po' a confronto con quelli che era un senso di inadeguatezza e anche di incapacità di concludere qualcosa che mi portavo dentro e anche appresso e questo è accaduto e poi è sfociato a un certo punto qualche anno fa quasi per gioco in un monologo cioè dove racconto la mia storia ma non è per niente autocelebrativo cioè non è i miei primi quarant'anni dove racconto dei succosi aneddoti personaggi che ho incontrato racconto il mio umano è rare il mio cammino mi prendo molto in giro e poi alla fine ho scoperto che non è così diversa dalle storie di molti partiamo dall'inizio perché insomma a lei la classica domanda vuoi più bene a papà o la mamma era vuoi più bene a un papà o l'altro papà beh diciamo che ecco le estrapolo una battuta del mio monologo diciamo che noi a tutt'oggi li ricordiamo con grande affetto e ammirazione per i grandi artisti che sono stati avevano altri talenti ecco rispetto alla paternità evidentemente sia l'uno che l'altro ma insomma avevano cose altre di cui occuparci Vittorio scherzosamente diceva ma neanche troppo scherzosamente che il bambino non avesse una conversazione interessante e che anzi forse per questo è equiparabile quasi a un cane o a un animale domestico e che se il bambino e il cane fossero stati fuori in giardino a correre appresso alla palla anche un po' fuori dalle balle diciamo sarebbe stato preferibile è venuto un po' di inclinazione di voce gasmaniana no ma io la prima cosa che io racconto quando comincio lo spettacolo è che sono portatore sano di un handicap perché sono nato e cresciuto in una casa dove la voce di riferimento maschile voce attorialmente autorevole ma no ma proprio si rivolgeva a me nel linguaggio di tutti i giorni quando io avevo due anni pronunciando delle frasi tipo lavati le mani che è pronto in tavola metti bene le posate nel piatto e piega il tovagliolo che questo non è un albergo ecco e io a due anni parlavo così con questa recitazione perfetto una dizione forse migliore sicuramente l'aveva il maestro lì Ivi Ritratto e lei rispondeva con lo stesso tono con dei pernacchioni certo che erano poi gli stessi che mi beccavo io fuori quando andavo a chiedere un caffè al bar buongiorno salve vorrei un caffè avevo sei anni e il barista diceva è me strappia per cu ragazzi finiva un po' così solo che all'inizio da bambino non capivo anche perché i bambini non hanno uno spiccato senso dell'ironia diciamo tantomeno dell'autoironia ma eravate una famiglia allargata come si dice diciamo che gli uomini di casa si allargavano a fare famiglie uno in particolare insomma con mia madre era oramai giunto al quarto tentativo se mediamente prima duravano due o tre anni i suoi rapporti con mia madre è durato 20-30 anni credo sia nel bene e nel male è stata la donna della sua vita e viceversa io volevo indagare però la dinamica della vita familiare cioè a Natale lei vedeva tanto papà che papà oppure un papà solo certo io facevo un weekend a casa un weekend con mio padre durante la settimana separatamente però certamente e poi quando invece c'erano i momenti delle vacanze facevo una parte delle vacanze estive con mio padre e altre con mia madre con Vittorio ma era difficile comunque stare tutti assieme guardi io ho passato gran parte della mia infanzia con figure terze non so mia nonna che era molto presente in casa Vittorio era in torneo nonna materna nonna materna che era un generale insomma di quelli oppure avevo delle bambinaie delle cose che da fuori erano molto belle ci vedi lui c'ha la bambinaia il maggiordomo c'ha la nonna lì le cose ma poi in realtà non avevo un papà con cui giocare a pallone io invidiavo i miei compagnucci che avevano un papà intanto più giovane perché mio papà mi ha avuto a 44 anni insomma quindi un papà che a me sembrava vecchio con i capelli bianchi e invidiavo i papà giovani che giocavano a pallone però poi mio padre era un personaggio veniva comunque guardato con rispetto e poi in qualche modo facevo il paio diciamo con i miei complessi Vittorio e Luciano compagni d'accademia durante la guerra poi papà è stato prigioniero di guerra però uno ha fregato la donna all'altro eh sì insomma hanno fatto un sacco di cose assieme avevano delle stesse passioni evidentemente anche per le donne e poi a un certo punto c'è stato questo passaggio di consegna certo erano molto amici papà erano amici da 40 anni prima eh sì e dopo? ma dopo sono rimasti signorilmente distanti oserei dire non sono mai scaduti in quelle cose no quello no erano troppo ironici avevano anche hanno sempre forse combattuto di di Fioretto ma senza nemmeno impugnarlo e invece con Alessandro Gasman il rapporto com'è stato? beh Alessandro siete considerati fratelli? sì certo certo beh con Ale ci siamo conosciuti quando avevamo due tre anni lui veniva un weekend sì e uno no come età siete più o meno lui ha un anno e mezzo di più di più e anche una ventina di centimetri in più ma questo non se ne accorge nessuno in altezza eh certo certo no di cosa parlava? no 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 perché non sapi? vista la paternità certo certo vista la paternità certo mentre è venuto a vivere e abbiamo vissuto tutti assieme invece in pianta stabile quando è nato nostro fratello Jacopo nel 1980 infatti io scherzosamente dico che il fratello di mio fratello non è mio fratello in qualche modo è così ci vuole un filino di... beh il fratello di mio fratello Jacopo che è Alessandro non è mio fratello poi la cosa è molto... tecnicamente parlando siamo figli di due coppie diverse però abbiamo vissuto fin da bambini praticamente quasi sempre assieme e quindi sì diciamo di suo padre padre artisticamente che cosa che cosa ha apprezzato di più lui è andato da studio 1 a Fantozzi beh lei sta parlando della sua poliedricità certo papà è stato ma intanto un grande un grande professionista che si è messo in gioco in tutte le discipline del mondo dello spettacolo sempre con la stessa serietà con la stessa giovialità e anche mi verrebbe da dire con la stessa compiutezza anche se nel periodo diciamo storico in cui papà si è esercitato c'era una certa pruderia da parte di una certa critica per cui uno che faceva il regista anche di film come possono essere stati il federale la voglia matta se poi faceva anche le commedie di costume scollacciate con Walter Chiario con altri e se poi faceva anche le pernacchie alla radio con la skiff parade o se faceva il studio 1 i commenti delle battutacce taglienti non veniva preso realmente sul serio o fai il regista serio e fai solo i film ma se dici anche le barzette allora non sei uno serio papà ha pagato moltissimo questo però ha pagato anche il fatto di essere stato attichettato come fascista a torto ragione non lo so no è totalmente un falso storico cioè proprio la cosa e come è stata appiccicata addosso? beh questo dovremmo chiederlo a chi gliel'ha appiccicata mio padre è stato per due anni in un campo di lavoro in Germania io ho tutti i documenti cioè che mi sono stati dati finalmente sei mesi fa il come si chiama il foglio complementare il distretto c'è una parola foglio di congedo è stato messo sì secondo molti come un repubblichino di qua e di là ma la storia è un'altra adesso sto tramite un avvocato avendo giustizia ma non perché abbia nulla contro quel periodo perché avevo un nonno invece che era il padre di mia madre che era un federale che lo è stato un uomo un eroe di guerra che ha fatto la campagna di Russia mio padre è stato prigioniero in Germania invece la verità è quella è scappato nel maggio del 45 quindi se qualcuno ha torto su internet fanno dei copia e incolla e lo infinalo lì insieme ad altri è solo un falso storico e lo sto chiarendo anche con delle azioni legali ma solo per avere la rettifica diciamo della notizia ecco non chiedo a proposito di storia ci racconta perché è nata Londra perché c'è un motivo particolare che poi era molto semplice perché mio padre stava attendendo l'annullamento da parte della Sacra Rota del matrimonio unico che in realtà ha fatto perché con mia madre appunto non è riuscita a sposarsi e per potermi riconoscere l'unico modo era nascere all'estero e in questo senso perché se fosse nato in Italia non avrebbe potuto portare il cognome di suo padre e non avrebbe mai avuto l'annullamento anche perché credo che fra uno dei motivi in cui aveva chiesto l'annullamento del vincolo matrimoniale era incapacità di procreare quindi avrei un po' procurato le uova nel paniere è un classico io ho fatto la campagna a favore del divorzio e mi ricordo che questa era una delle cose si sarebbe gridato al miracolo comunque per carità quindi in qualche modo si aggiustava la cosa però ecco senta veniamo alla sua decisione di portare questo spaccato di vita che lei ci sta raccontando di portarlo in teatro perché ha fatto questa scelta? per finire quell'esorcismo che aveva iniziato facendo il mestiere dei suoi padri? è finito per essere questo in realtà nasce in maniera molto innocente cioè a me dopo tre anni che facevo l'attore l'attore di compagnia non facevo neanche mai i ruoli da protagonista né nulla mi viene offerto da un teatro una serata dove avrei dovuto esibirmi e io ero preoccupatissimo ma come la serata? io faccio l'attore di compagnia ma no venga da noi ci fa una lettura un monologo un monologo insomma la sua scelta un sogno nel cassetto ce l'avrà una cosa ero preoccupatissimo tanto che pensai di andare a leggergli un bel monologo di Dostoevsky e me le robella magari con la voce di Gasman perfetto che sarebbe venuto scusi è giusto che hai visto il tipo ce la faccia un po' sentire no perché condannaci se puoi e se osi però ci sono dei video con Gasman che fa benissimo no ma io su questo ironizzo però perché sono cioè sono un salce parlante con la voce di Gasman affetto anche da autoironia e autolesionismo anche soprattutto torniamo alla decisione di portare in teatro il teatro insomma poi alla fine qualcuno mi dice ma cosa vai a fare Dostoevsky va beh gli fai due palle così lascia per fai una cosa tua e siccome anni prima quando avevo fatto il centro sperimentale come regista avevo tentato di scrivere un lungometraggio finito in un cassetto se non in qualche cestino c'era un inizio di idea che partiva dal giorno in cui morì mio padre che era un giorno particolare della mia vita che rileggevo a distanza di anni come racconto nello spettacolo ecco i funerali di cui facevamo riferimento prima perché in realtà il libro è tre funerali anzi due funerali e mezzo praticamente sì è venuto fuori per grande gratitudine nei confronti di questi signori che mi offrivano questa possibilità di esibirmi da loro tutta per me questa serata così mi sono aperto il ventre e mi è uscito fuori tutto ciò che avevo dentro forse anche un po' che necessitava un po' di prendere abbraccio o ho scritto no ho scritto e quindi ho raccontato il giorno in cui morì e mio padre ma non è una cosa drammatica avevo elaborato l'accadimento e racconto con molta onestà quella mia giornata io torno tipo faccia conto che ero reduce da un sabato sera di quelli che si fanno a vent'anni quindi ubriaco come una cucuzza alle sei del mattino e verso le otto cominciano arrivare telefonate segreterie che si accendono e io apprendo praticamente da una segreteria da un messaggio che mio padre era morto e poi lì mi risquilla il telefono mi chiama uno e comincia una giornata intensa io avevo vent'anni ero sotto Natale una giornata piovosa in fausta e mia madre era a Cuba con Vittorio che era ospite del festival dell'Havana e io a vent'anni ancora ubriaco mi trovo senza sonno a dover gestire quasi in un trip ipnotico questa giornata inseguito da un cassa mortaro con un catalogo di bar che mi consiglia questa è papà suo guardi la persona o un'infermiera che mi diceva il vestito di suo padre fa difetto venghi a vedere venghi con me mi devi aiutare dove ce l'hai vestiti buoni suo padre però è tutta cosa vera e anche dei parenti che non erano assolutamente che io non conoscevo che mi baciavano oppure che piangevano o che mi chiedevano ma quel quadro lì papà dove l'abbia nella vecchia casa ma quel bel quadro di rosai che fine che ha fatto insomma molto interessati a queste questioni giustamente mentre il giorno in cui morirà Vittorio che è il secondo funerale sì ho già una certa esperienza ho già un lutto paterno sono trentenne dieci anni davo già quasi consulenze diciamo sui funerali paterne e quello di Gasman invece avviene a inizio estate mentre quello di mio padre era in inverno a giugno ed è il giorno anche della partita Olanda Italia famosa semifinale di calcio degli europei del 2000 che l'Italia vincerà e lì arrivano cardinali papi non so presidenti ministri qualsiasi cosa è una cosa un carnevale del sacro del profano in pompa magna con presenzialisti ma gente che poi finisce in cucina a stappare delle bottiglie da collezione fingendo di non sapere che era un biondi santi insomma così e con dei curiosi personaggi finché ci si trova a fare come in una tribuna calcistica il tifo per l'Italia con la salma lì accanto sì ma con grande affetto e anche sdrammatizzando il ritro cioè si sono messi a vedere la televisione beh insomma qualcuno però dice ma insomma c'è un morto un po' di rispetto e però guarda Totti il cucchiaio insomma quindi è stata tutta una cosa insomma io racconto questi due momenti qua con credo con con onestà e quindi nello spettacolo ecco che questi sono sono i due funerali seri e poi ce n'è un terzo ce n'è un terzo che diciamo è un momento io non l'avrei fatto però lei ha rischiato diciamo è il suo quello prossimo metaforico nel nostro linguaggio abbiamo ogni tanto quelle espressioni tipo avrei preferito morire insomma sarei morto piuttosto mi sono trovato a vivere una giornata credo la più imbarazzante della mia vita della mia storia lo posso dire tanto siamo fra amici ero in viaggio in Australia e al decimo giorno di costipazione come dire decisi che insomma o finivo in una clinica oppure ho tentato un overdose di lassativi il giorno prima avevo conosciuto alla Sydney Opera House un luogo meraviglioso molto bello una gentile signorina che mi aveva invitato ad andare con lei a visitare un museo locale e io per cercare di non essere veramente avevo una pancia che non riuscivo più a lasciarmi i pantaloni a respirare era un problema diciamo medico stavamo sfiorando un intervento di estrazione meccanico manuale per intenderci e mi sono trovato diciamo il mio malgrado a dover a vivere questo disagio proprio il giorno del primo appuntamento con lei nel bel mezzo di un museo grande come una città credevo che foste andate poi al sodo e quindi nel bel mezzo no quello dopo con mia grossa sorpresa la sera stessa lei poi non se ne è fatta un grande problema no questi australiani vanno al sodo si ma sdrammatizzano diciamo non stanno lì mentre noi italiani diciamo oddio a parte invertita io non so come me la sarei cavata però lei fu diciamo la compagna migliore con cui incorrere le ha tenuto la fronte come? le ha tenuto la fronte come si dice no no io mi sono rinchiuso in un cunicolo stavo al terzo piano interrato di un museo se lo ricordano ancora adesso al museo porca miseria credo che mi hanno fatto una specie di di padiglione di arte moderna sì sì ma veramente una roba terribile senta ma la critica dopo dopo perché lei adesso sono sette anni che sta portando in giro un mese o due l'anno lo riprendiamo quindi quanta replica avete fatto? subito 300 più o meno quindi insomma il pubblico ha risposto se no non stareste in giro giusto? certo ma non lo facciamo e la critica invece? la famosa critica? la critica abbiamo avuto qualcosa tipo 120 recensioni di cui buone? 119 ma no che gridavano degli Osanna ma abbiamo addirittura? il Corriere della Sera Cordelli ci ha messo 8 su 10 e così di Gianmarco su Repubblica la fu Rita Sala sul Messaggero sono venuti quelli del fatto quotidiano un mese fa Marco Travaglio Pietrangelo Buttafuoco sono impazziti no no abbiamo i favori della critica del pubblico non abbiamo i favori del sistema teatro cioè noi giriamo in canali non ufficiali in teatri off siamo un po' fuori diciamo il sistema teatro ormai è andato a farsi fottere beh però esistono delle cosche diciamo o dei giri amicali in cui ci si scambiano spettacoli gli ultimi danari pubblici rimasti ecco noi siamo invece andiamo proprio quasi quasi ancora con il calesse nel villaggio e mettiamo su il baraccone e ci esibiamo qualsiasi cosa ne viene però se voglio ho fatto la domanda senza sapere qual era la risposta nel senso che non sapevo come era stata la critica temevo che qualcuno avesse avuto voglia di fargliela pagare di aver avuto questi due padri adesso questo qua che cavolo vuole ma no perché guardi io non sono un divo sono fuori da ogni sospetto non mi arricchisco con questo spettacolo me la fa apprezzare sì 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 no cioè non vendo nulla io lo faccio gratis questo spettacolo cioè io quando ho pagato l'altro attore noi andiamo in teatri da 100 posti insomma a 10 euro a biglietto con 50 persone se va bene quindi quando abbiamo fatto 70-30 in questo siamo forse gli ultimi o insomma fra i pochi rimasti puri che fanno questo mestiere per passione anche per necessità ma interiore e si capisce subito cioè chi chiede l'ambiente lo sa insomma qual è poi la mia storia io non sono un divo sono uno che cerca di mettere in gioco la propria umanità anche attraverso questo mestiere che offre questa possibilità che poi è un bivio ti puoi inguattare nei tuoi personaggi nasconderti mentire benissimo e fare benissimo la professione oppure andarti a cercare cioè andarti anche a stanare trovare la tua verità anche nei personaggi più scomodi o apparentemente più distanti da te e poi forse far uscire così una scintilla di un qualcosa di vero che alla gente poi arriva lo sente quando poi c'è qual è la battuta più apprezzata più applaudita di questa rappresentazione teatrale? eh guardi è il racconto che noi facciamo sì con un gran ritmo con una lingua anche particolare un'ironia che se non stai la gente io lo dico sempre è uno degli spettacoli meno visti ma più rivisti del teatro italiano perché devi vederlo due o tre volte per apprezzarlo guardi persone otto o nove che tornano anche due giorni di seguito tornano il giorno dopo portando la madre tanto si sono persi qualcosa prendono appunti beh sì ma perché è una macchinetta parlate a macchiettiva perché mettiamo dentro molta roba tra una battuta è una vendetta contro mentana no mitraglietta non è in quel senso che andiamo è denso di cose cioè di verità di emozioni di ironia e anche nel momento in cui sto dicendo che c'è un mio parente che mentre dettava un necrologio al telefono si mangiava un panino la famiglia Sarsi dalla scomparsa dell'amato Luciano si stringe un grande braccio e un attimo dopo invece dico che siccome non mi sentivo molto a mio agio ne feci pubblicare un altro a mie spese che diceva a papà quel fortissimo abbraccio che non ci siamo mai dati allora tu ti arriva un attimo che il necrologio è vero che io scrissi per mio padre cioè ho ancora le stampe dei giornali allora mentre uno sta ridendo di un parente sguagliato arriva anche un altro momento e si passa ci si emoziona ma lo facciamo non per emozionare è venuto così spontaneamente raccontando una storia siamo maledetamente fuori tempo ma questo mi spiace molto no 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 invece per carità ce lo prendiamo però l'ultima domanda è che fa Emanuele Salce da grande? beh oramai ho 50 anni l'ha svelato ma io cerco sempre di capire qualcosa di più di ieri che mi possa aiutare a capire meglio quello che farò domani mi piace comunque mettermi sempre in gioco spero di arrivare vicino alla fine avere ancora un bel po' di cose da capire di me mi piace più attore più regista ma più essere umano che non è pretenzioso per carità attraverso tutte le cose che fai è il modo di approcciare le cose che facciamo che poi fa di noi forse quelli che siamo credo piuttosto che ciò che facciamo personaggio interessante no? cosa dico? Emanuele Salce grazie grazie di essere stato con noi è un piacere grazie molto ci vediamo lunedì prossimo grazie di essere stati con noi arrivederci grazie a te grazie grazie a te